Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai Santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei Cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico Capo, tutte le cose, quelle nei Cieli e quelle sulla Terra.